Buongiorno, sono Vincenzo Finelli, direttore generale di Orogel Fresco. Stiamo collaborando con Cermac da diversi anni perché non cercavamo un semplice fornitore di un prodotto, ma perché abbiamo bisogno di avere un partner che ci possa aiutare in questo percorso di rinnovamento di una serie di impianti che abbiamo all'interno dei nostri stabilimenti. L'ultima macchina che abbiamo realizzato è una calibratrice di pere con lo svuotamento in acqua e con il controllo estetico dei difetti. Macchina che grazie alla grandissima competenza e disponibilità di questa azienda siamo riusciti a calare sulla nostra realtà come un vestito su misura. Quindi siamo partiti da una macchina generica e poi abbiamo fatto tantissime modifiche per renderla eccezionale per le nostre caratteristiche. Questo ci ha portato ad avere grandissimi risultati sul mantenimento di quella qualità che con tanta fatica fanno i produttori in campagna e allo stesso tempo sul contenimento dei costi. Chiave di volta per un mercato competitivo come quello che abbiamo negli ultimi anni e che ci aspetta per il futuro. CERMAC per noi vuol dire competenza e disponibilità.